Una serata come tante in un locale del Naviglio Pavese a Milano, poi il risveglio senza ricordi ma con forti dolori. Una giovane manager di 31 anni nel marzo scorso decise così di andare alla clinica Mangiagalli dove le riscontrarono i segni di una violenza sessuale. Per quella vicenda la procura ha diramato gli avvisi di conclusione indagini nei confronti di tre uomini tra i 23 e i 27 anni. Due di loro sono i titolari del locale in cui la donna aveva passato la serata. Secondo la ricostruzione della procura gli indagati avrebbero approfittato delle condizioni della donna per portarla in una cantina non lontano dal locale e per violentarla. Le analisi del sangue della vittima hanno escluso l'utilizzo di sostanze come la droga dello stupro. A quanto risulterebbe dalle indagini la donna aveva bevuto molto e non sarebbe stata in grado di comprendere pienamente quanto le stava succedendo. Esiste un video di quanto accaduto nella cantina che sarebbe stato diffuso. Secondo alcune fonti a un primo esame del filmato da parte dei carabinieri sarebbe rimasta in piedi l'ipotesi di un rapporto consensuale. Una tesi invece respinta dalla procura che ha formulato un'accusa di violenza sessuale di gruppo. Ai tre indagati sarebbe inoltre contestato l'utilizzo di una carta di credito di proprietà della donna.